Emiliano Giambelli, in arte, Emi Schilla, rapper nato e cresciuto a Monza, classe 89, iniziò la sua carriera a partire dal 2006. 2004, anzi, andando a riprendere molti suoi snippet mai rilasciati, o freestyle ripresi e caricati su YouTube che si svolgevano nel suo quartiere, e sicuramente una tra le tante cose di cui ci siamo resi conto nel passare di tutti questi anni ascoltando la sua musica è il non voler farsi condizionare dalle reazioni di quegli ascoltatori attuali, riscontrandosi mainstream ma indipendente, personalità e un atteggiarsi assai unico ma con stile versatile. E per sperarvi di cosa sto parlando, è caso di fare un bel viaggio nel tempo, partendo dalle origini fino ai giorni nostri, ma rimanendo costanti sulla stessa era, si sta ovviamente parlando di quella che è adesso una trilogia a tutti gli effetti, la classica e indimenticabile Keta Music. Correva l'anno 2008. Vabbè, citazione a parte. Correva l'anno 2008, quando Emis iniziò a comporre quelle che sarebbero state le tracce ufficiali del suo primo mixtape, che poi si rivelò essere il suo primo progetto ufficiale, rilasciato il 17 dicembre del 2009, sotto la sua etichetta discografica Block Records. Che dire, portare la propria carriera ad un livello più alto già dagli inizi non è una cosa da tutti. Per farvi un esempio, già dalla prima traccia del disco, ovvero Bad, dove vede come rearrangiatore della base originale, Michelle, spoiler è in un certo senso quasi tutto il progetto a venire. Un Emiskill disposto a raccontare i drammi, le difficoltà più grandi della sua vita e della gavetta fatta per arrivare lì dove era. Dico quasi tutto perché è ricorrente soprattutto il tema dell'autocelebrazione e di quanto si arrande la sua voglia di imporsi all'interno della scena. Tutto questo accompagnato da un grandissimo flow energetico che soltanto lui sa utilizzare. Un'altra essenza portante di Ketamusic, anche se il titolo potrà trarre poco in inganno, sono le basi musicali presenti ovviamente in ogni canzone, che neanche stando a dirlo sono versioni rielaborate di basi che già esistono in America. Anche se in molte tracce, soprattutto se ascoltate la prima volta, potranno risultare molto incoerenti con ciò che verrà scritto poi sopra. Perciò si crea un punto d'incontro senza fine tra testi molto riflessivi su certe cose e strumentali che spingono un botto. Perciò l'ascoltatore medio, che non ha mai sentito parlare di Emiskill, che non ha mai ascoltato neanche una sua canzone singola, si va ad ascoltare questo progetto per capire più o meno come se la cava a livello musicale, fa molta fatica a capire dove vuole puntare il disco. Perciò, molto probabilmente, ma questa è soltanto una mia ipotesi, Emiskill l'avrà fatto anche un po' apposta, per attirare due tipologie di appassionati. Da una parte chi va alla ricerca del lato contenutistico del progetto, e dall'altra chi va dietro alla produzione slash mixing. Garantirà non solo un buon futuro a livello di vendite, ma non finirà mai di stancare gli ascoltatori. In conclusione, è tutto sommato una saga che, nonostante il troppo tempo passato da un volume all'altro, è rimasta molto costante sia sull'argomento sia sullo stile che si sono andati a generare fin dall'inizio, ma allo stesso tempo cerca di migliorarsi e maturarsi anno dopo anno sfoderando le sue incredibili doti metriche, mettendo in chiaro che non è l'età ad urtarti contro qualcosa con cui sei nato nel profondo del cuore, ma solo se lo desideri davvero potrai andare avanti e ricostruirti una nuova strada personale. Un viaggio indimenticabile verso l'underround, verso il rap che tutti noi abbiamo sempre saputo apprezzare. Ed è grazie a gente come Emiskilla che ci ricordiamo il perché tuttora rimaniamo degli appassionati.